Allora Tommi, parlami della scuola. La scuola. La scuola è quel posto dove manca la cancelletta. Dove se ci scappa lo squaraos, la carta igienica ce la dobbiamo portare da casa. Dove ogni tanto ci piove dentro. Dove la sicurezza a volte è insicura. Dove i presidi hanno dovuto utilizzare i contributi delle famiglie per pagare le bollette. Ma caro Tommi, noi dobbiamo resistere. Sai perché? Lo dice la Costituzione, la scuola è obbligatoria. No maestro, l'articolo 34 della Costituzione recita che l'istruzione è obbligatoria, non la scuola. Eppure caro Tommi, basterete così poco perché soldini ci sono, solo che vanno spesi meglio. Allora maestro, ho la soluzione. Togliamo un po' di soldini politici e andiamoli alle scuole. Ottima idea. Mettiamo dietro i cattivi. Dietro consigliato, pennette all'arabbiata, tanto per ricordarci l'umore delle famiglie in questo periodo. Libro consigliato, impariamo dei bambini ad essere grandi. Rimariamo un tessore. A 2 ora.